La categoria delle zappatrici Forigo si contraddistingue per una costruzione stabile e solida, fondata su elementi meccanici di qualità e soluzioni tecniche a manutenzione zero. Esse consentono di rimescolare il terreno e raffinare zolle compatte, residui culturali ed infestanti. I differenti modelli in produzione si adattano a vari ambiti di utilizzo, dal giardinaggio alle culture estensive, passando per il settore autofrutticolo. Le caratteristiche principali sono una gamba suddivisa in macchine con telaio fisso, telaio spostabile meccanicamente o idraulicamente e doppie con telaio pieghevole. Ogni modello consente un'ampia scelta di rulli compattatori, utensili ed accessori su misura. Una trasmissione esclusiva Super Ratio a 6 ingranaggi per le alte potenze. Oltre a questa specifica categoria, Forigo offre una vasta gamma di prodotti e si propone sul mercato mondiale a tutte le latitudini, studiando ogni volta soluzioni adattabili alle varie fasce climatiche e a livelli di meccanizzazione presenti. Per maggiori informazioni seguici sui nostri canali social o visita il nostro sito web. Siamo sempre pronti a misurarsi con te.